mercoledì 11 agosto finale della lega dei campioni amatori 2021 e con questa finale si chiudono le finali della lega dei campioni il torneo più importante di atti league per quanto riguarda l'estate in questo caso ovviamente l'estate 2021 fct controlla sui trasporti si sono già affrontate del girone a ne uscì uno splendido 3 a 3 staremo a vedere chi ne uscirà vincitore oggi perché il pareggio stasera in questa finale non vale siamo pronti partiamo fct contro raso trasporti squadre in campo per i classici inconvenievoli finale della lega dei campioni amatori edizione del 2021 categoria amatori raso trasporti arrivato qui dopo aver eliminato il cagliari united che l'aveva battuta nella fase a gironi tra l'altro fct e raso trasporti escono dallo stesso girone quello a il raso trasporti perdono l'fct invece ha eliminato in semifinale la sd il cagliari river plate chiedo scusa dopo i calci di rigore le formazioni mentre sta per prendere il via la parità dei due direttori di gara sono marine bau ed angelo amirevole partiamo dalla schieramento dallo schieramento di fct che schiera tra i pali michele picciao poi abbiamo cano schierato a difensore francesco de jane anche lui difensore a centrocampo abbiamo marcello pigliacampo fabio scalas francesco busonera fernando littera daniele podesu in attacco michele littera e fabrizio farci qualche senso nel frattempo iniziate questo momento la parità 21 e 15 esatte la risposta del raso trasporti che si schiera con la maglia rossa in questa prima frazione attaccherà dalla sinistra verso la destra rispetto al vostro punto e al nostro punto di osservazione tra i pali c'è matteo laconi poi in difesa fontana norbis desi di engh pani e eloi al centrocampo troviamo walter masler marco piso che chiede un fallo qui attenzione a questa conclusione di michele littera dalla sinistra non benissimo quella con ci sarà un calcio d'angolo a beneficio di fct posizione da posizione molto 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 invitante a favore di fct attenzione perché littera dispone tra l'altro francesco littera dispone di un buon mancino sul pallone c'è anche michele littera lui è un destro è probabile che da quel punto vada michele littera perché poi col mancino si presume che fernando littera provi sotto l'incrocio vicino dove però è piazzata la barriera staremo un pochino a vedere invece va fernando littera ea e c'è l'ottimo intervento da parte di matteo laconi che devia la palla in fallo laterale ancora un angolo pallone nel mezzo attenzione arriva michele littera il suo destro termina alto sopra la traversa marco piso arpi una palla sulla sinistra attenzione la mette nel mezzo interessante per la conclusione masticata da parte di valter masala buona buona a questa occasione a favore della formazione bianco rossa o meglio a favore della formazione in maglia rossa attenzione le fct con la conclusione da parte di fabio scalas con l'esterno destro palla che è stata deviata in calcio d'angolo sta sta soffrendo le incursioni delle fct il raso trasporti pallone per marco piso tra i grandi protagonisti marco piso dei quarti di finale delle semifinali adesso marco piso viene lanciato da sarrizzo pallone appena lungo poi ancora sarrizzo qui attenzione sbanda le fct sarrizzo prova a metterle mezzo ottimo questo scambio sarrizzo palla nel mezzo piso il salvataggio il salvataggio sulla linea non è ancora finita fct anzi no raso trasporti ancora in possesso di palla per un attimo però recupera palla le fct adesso fernando littera la palla per farci poi la parecchia michele littera di rigore controllo sbagliato poi l'acoli a salvare non è ancora finita attenzione arriva scalas dalle retrovia ancora lui insiste forse troppo finisce per perdere il pallone non c'è fallo secondo quello che dice marine bau attenzione ad antonello sarrizzo qui si trattava esattamente di francesco de jane tentativo abbastanza pretenzioso questo di de jane ha bello a vedersi comunque a conclusione al volo dal lato sinistro in area prova ad arrivare sul pallone de jane a buon gioco il raso marco piso qui rischia qualcosa allungandosi il pallone poi va a servire walter masola tanto movimento per lui fino a questo momento arriva adesso matar lascia masola ottimo il numero di masola che va via benissimo de jane sulla destra masola prova il destro pi ciao in calcio d'angolo pronto pigliacan può andare alla battuta scodellata nel mezzo non ci arriva nessuno anzi c'è d'espo dal limite la sua conclusione la traversa la traversa esterna l'aconi sembrava comunque in traiettoria scalas riceve sulla destra il lancio a cercare farci ottimo qui per despo dovrebbe trattarsi farci era di rigore brivido brivido per il raso trasporti la palla è passata un niente a un niente dal palo destro rimessa in zona potremmo dire d'attacco a favore di fct dalla sinistra con pallone per michele littera servito ad espo ancora michele littera finisce giù in realtà se qualcuno aveva commesso il fallo questo era proprio michele littera in scivolata attenzione siamo già dall'altra parte marco piso c'è una deviazione palo palo clamoroso del raso trasporti sarebbe stato un autogol clamoroso palla adesso è per scalas che non ha un buon controllo san rizzo prova a partire in contropiede in tre su di lui ancora san rizzo limite dell'area di rigore prova la conclusione la rete il raso trasporti è in vantaggio costo cost di antonello san rizzo che è partito dalla sua metà campo è entrato in area dalla sinistra resistendo al pressing di un avversario e l'ha piazzata col mancino conclusione abbastanza centrale non ho ben capito se ci sia stata una deviazione che ha spiazzato o meno piccia un matantè al ventunesimo si sblocca la finale della lega dei campioni amatori il raso trasporti è in vantaggio assegnato antonello san rizzo ma bornia col mancino la respinta corta marco piso murato walter masala va lui col destro la traversa una bordata devastante quella di walter masala aveva pareggiato il conto delle traverse a questo punto sul punto di battuta è rimasto soltanto marco piso avvicino c'è walter masala marco piso va col destro è uno schermo attenzione walter masala alto di un niente alto di un niente al 26esimo si conclude il primo tempo su una occasionissima per il raso trasporti che va a riposo in vantaggio dopo il gol messo a segno d'antonello san rizzo raso trasporti che ha sfidato altre due volte il gol adesso con walter masala e poi con quella traversa allucinante di walter masala esatto sempre lui e chiudiamo qui e con il primo tempo fct 0 raso trasporti 1 ci risentiamo per la ripresa secondo tempo pronto a iniziare si riparte dall 1 a 0 per il raso trasporti grazie al gol messo a segno d'antonello sarrizzo ma tante tante emozioni eccolo qui il fischio di riavvio sono le 21 e 44 in punto tante emozioni nel primo tempo dopo un avvio in sordina da parte entrambe le squadre la squadra più vicina al gol inizialmente era stata l'fct che ha colpito una traversa su trasporti in quel momento stava un attimino soffrendo poi è venuto fuori il gol di antonello san rizzo letteralmente spaccato le certezze di questo match raso poi di nuovo vicino al gol con walter masala e sempre walter masala vicino al gol nel finale di primo tempo nello san rizzo che prova a ripartire mamma mia san rizzo mamma mia quando parte in progressione entra in area di rigore della sinistra piccia non è finita ancora più ciao valentino pani la dà sulla corsia destra beneficio antonello san rizzo che si divincola benissimo dell'avversario ancora antonello san rizzo forse qui tarda un po troppo poi prova il destro la bolla che possa e passa un niente a un niente dal palo destro qui picciao sembrava in ritardo angolo a favore del raso trasporti con gigibornia pronto andare alla battuta pallone scodellato splendidamente per marco pisu che stop col petto poi destro la rete ha raddoppiato il raso trasporti quando siamo al quinto minuto del secondo tempo ma che colpo di genio quello di gigibornia che dalla bandierina destra ha pescato splendidamente pisu al limite stop col petto si è allungato il palone poi cannonata col destro a battere michele picciao alla destra dello stesso portiere adesso l'fct deve provare a fare qualcosa per riprendersi perché il raso in questo momento ha in pugno la vittoria della lega dei campioni amatori e va detto meritatamente per quello che si è visto in campo eccolo qui pigliacampo il pallone per la conclusione di farci murata ben murata da l'aconi è una bella sfida è una bella sfida questa tra i due miglior portieri e san rizzo corsia di destra la scodella nel mezzo picciao anticipa andando sul pallone poi attenzione rischia grosso pisu la doppietta personale per il centrocampista centrale del raso trasporti qui ha smandato maledettamente la retroguardia dell'fct arriva il gol del 3 a 0 adesso è un'impresa per l'fct riuscire a rimontarla tra l'altro mi sono perso anche il minuto di gioco ma non è un problema vi aggiorno immediatamente siamo esattamente al minuto numero nove del secondo tempo per cui fct 0 raso trasporti 3 vediamo un po il destro di volter masola piccia valter masola il 4 a 0 del raso trasporti picciao ci ha messo il piedino destro ma non è bastato la palla è comunque carambolata in rete e quando siamo arrivati se non vado errato al decimo minuto del secondo tempo è così il raso trasporti ha segnato il 4 a 0 avevamo detto finale equilibratissima fino alla fine del primo tempo poi abbiamo aggiunto che il gol del 1 a 0 ha completamente spaccato la gara e stanno arrivando le conferme perché in questo secondo tempo si l'fct qualcosa aveva provato a farla per tornare in carreggiata ma non c'è stato c'è stato quantomeno poco da fare il raso trasporti a altra benzina in corpo e adesso attenzione all'error accio all'error accio da parte di picciao e qui ha rischiato grossissimo l'fct letteralmente non ci sta più capendo nulla adesso bravo qui busonera che va via all'avversario poi sbaglia le cose più semplici sbaglia proprio le cose più semplici attenzione valter masola divora col mancino praticamente davanti a picciao palla sul fondo di poco lato al lato del palo destro pronto la battuta di questa punizione attenzione e qui è bravissimo la conichella alza in calcio d'angolo attenzione adesso questa conclusione la palla che passa michele littera non riesce dal lato destro in area a concludere in rete non è proprio partita per l'fct intanto sarrizzo area di rigore lato sinistro murato murato da busonera comunque tra i migliori di fct e poi si intesta ardice attenzione qui scivola sarrizzo quasi dando noia walter masola che poi col tacco va a servire proprio sarrizzo lato sinistro in area di rigore chiuso adesso l'fct palla fuori per walter masola che prova il destro pallone che termina sul fondo ma non di molto ventiduesimo tre minuti alla fine il raso trasporti lo possiamo dire è campione della lega dei campioni attenzione farci e qui c'è un tocco col braccio di fontana e norbis dice bau attaccato al corpo attenzione masola e trenera dalla destra la doppietta personale di walter masola il 5 a zero con fabrizio farci intanto a protestare perché l'azione nasce da un presunto rigore a favore di fct parziale pesantissimo 5 a 0 per raso trasporti cinque gol anche ieri se non vado errato nella finale attenzione uh mamma mia uh mamma mia che gol che ha fatto che gol che ha fatto l'fct ha segnato esattamente fabio scalas con un esterno destro dal limite destro pallone sotto l'incrocio sinistro l'aconi tra l'altro nascosto mi parli da due compagni per cui non ci sarebbe arrivato neppure volando su questa palla veramente un capolavoro riduce le distanze l'fct quando siamo al ventitresimo del secondo tempo san rizzo non è finita ancora se rizzo costo la rete del 6 a 1 sulla quale arriva il triplice fischio il raso trasporti è campione della lega dei campioni amatori 2021 di calcio a 7 torna campione dopo che giallo era stato qualche anno fa in finale contro il p team raso trasporti strasuperiore in questo secondo tempo fct ha resistito solo un tempo poi dopo che arrivato il gol del 1 a 0 di antonello san rizzo è letteralmente collassato è tutto qui da seminario almeno per la gara della lega dei campioni amatori 2021 fct 1 raso trasporti 6 in compagnia di michele piciao vice campione con la maglia di fct allora michele è stato un bel sogno peccato che sia finita presto perché l'uno a zero per quello che ho visto io ha spezzato tutto sia ben erano di più loro più ragazzi giovani più corsa e tutto nata bene lo stesso siamo arrivati in finale va bene così senti voi con loro avevate pareggiato 3 a 3 nella fase a gironi ti chiedo qual è stata la differenza io non c'era quella partita e lo sente perfetto allora e allora ricapitiamo ovviamente la la domanda quello che ti chiedo invece modificando la domanda precedente se vi aspettavate una finale così perché eravate pariti anche discretamente preso una traversa però come ricollegandomi anche la domanda precedente il 1 a 0 non avevo mai visto le fct mollare l'ho visto stasera in una finale forse il caldo un po di giocatori infortunati quindi siamo subito demolizzati e mollato subito mi è mancato anche un po l'apporto di patron pedis certo anche mario fa la sua parte grazie a michele per adesso e complimenti grazie in compagnia di walter masala nel post partita fct contro rasso trasporti un rasso trasporti walter che era partito in sordina li avete sofferti a un certo punto loro sono andati vicino al gol con una traversa colpita poi l'ello si è scatenato perché poi quella progressione cost to cost che tra l'altro poi ha ripetuto a fine partita e lì è cambiata cioè quel 1 a 0 è sembrato non che per voi non fosse il gol del 1 a 0 ma fosse il gol 3 a 0 perché siete vi siete infilati in un vagone e siete priti come dei treni dopo il gol del 1 a 0 perché poi ricordo la tua occasione del finale primo tempo la tua traversa allora è come sempre nelle finali diciamo sia paura di fare sempre la prima mossa no di sbagliare il primo passaggio per non rischiare niente però come capita nella maggior parte dei casi il primo che fa gol e la sblocca diciamo costringe gli altri a sbilanciarsi e di conseguenza si aprono gli spazi e per noi insomma il nostro pane noi ci muoviamo negli spazi cerchiamo di prendere in contropiede le squadre come la maggior parte di tutte le partite che abbiamo fatto e diciamo che la nostra arma vincente poi antonello ha fatto un gran gol partito da solo ha scartato tutti ha fatto gol cosa cosa si può chiedere di più in una finale poi niente è stato il giusto premio per questo gruppo perché comunque sia siamo un bel gruppo tutti i ragazzi che lavorano tutto il giorno insomma anche chi fa due partite ogni ogni giorno quindi insomma ce lo meritiamo ce lo meritiamo senti io sapevo che questo raso trasporti l'ho scritto anche nell'articolo non so se l'avete letto di oggi era forte fortissimo sarei dire a maggior ragione mi ha sorpreso che non siate finite tra le prime due nella fase gironi ti chiedo cosa è successo allora nella maggior parte la maggior parte delle partite l'avete visto anche voi siamo arrivati contatti alcune volte senza cambi e quindi quando trovi a fare partite poi con questo caldo contatti contro squadre organizzate come quelle che abbiamo sfidato diventa veramente difficile però insomma l'importante aver vinto questo torneo aver mantenuto la parola che il presidente insomma gli abbiamo promesso a lui è giusto così ci avete pareggiato 3 a 3 arrivo arrivo ci avete pareggiato 3 a 3 nella ci avete pareggiato 3 a 3 nella fase a gironi oggi li avete battuti 6 1 praticamente il secondo tempo non è esistita parte tra pochissimo ce lo rendono un momento tra pochissimo ce lo rendono allora tra l'altro anche zoppicante e dicevo valter ci avete pareggiato 3 a 3 oggi nel secondo tempo non gli avete fatto vedere palla qual è stata la differenza con quella partita beh sicuramente ti ripeto tornando al discorso della finale le vince che più motivato noi secondo me da questo sotto questo punto di vista eravamo più motivati di loro hanno ceduto dopo il terzo non lo lasciano tranquillo dopo il terzo quarto gol hanno hanno ceduto ora io non so quali quali siano stati i loro problemi però a noi c'è dato la spinta in più per per chiuderla la fine complimentissimi a valter e a tutto il resto trasporti grazie grazie